in questo video andiamo a parlare del one pass 12 prodotto di fascia alta di one plus uscito a gennaio del 2024 per i mercati globali mentre era stato presentato a dicembre in cina prezzo d'uscita molto elevato 9 69 per la versione base 12 256 1099 per la versione top 16 512 gigabyte la versione da un detabyte non è mai arrivata per il nostro mercato in quanto è presentata stata presentata solo per il mercato cinese in pre vendita si potevano avere in gratis le cuffie o comunque c'erano degli sconti direttamente sul sito di oppo di 100 euro bus share di 150 euro da consumare direttamente sull'op store attualmente il prezzo di vendita del one plus è sceso per quanto riguarda diciamo amazon è addirittura possibile acquistarlo a 899 euro quindi 900 euro nella versione top 16 512 è possibile però acquistare anche da altri negozi e in particolare nella versione base da 256 gigabyte come vediamo il prezzo addirittura è sceso sotto le 800 euro quindi è possibile in questo caso da 512 gigabyte addirittura è possibile in alcuni negozi acquistarlo ad un prezzo comunque abbastanza basso di poco superiore alle 800 euro sotto le 800 euro invece è possibile acquistare la versione da 256 gigabyte quindi già ora intorno al mese di maggio inizio di maggio il prezzo del one plus diventa molto più appetibile il prodotto esce ovviamente con l'oxygen os 14 che praticamente non è altro che una versione uguale simile in tutto e per tutto alla color os presente sui mercati presente in particolare sui dispositivi oppo in più per quanto riguarda il one plus 12 esce con l'oxygen os 14 per il mercato globale con la color os per il mercato cinese color os che ha qualche chic in più rispetto all'oxygen os soprattutto per quanto riguarda la presenza di uno store diretto dei temi che non troviamo nell'oxygen la bussola oppure l'app di gestione del telefono che non troviamo nell'oxygen os e anche un'app di gestione dell'audio e dei video che non troviamo invece nell'oxygen os poi in tutto e per tutto sono uguali per quanto riguarda le patch di sicurezza con l'ultimo aggiornamento sono state aggiornate ad aprile in particolare gli aggiornamenti arrivano ogni due mesi si tratta sia di aggiornamenti correttivi che bug fix sia in pratica di introduzione di nuove funzionalità e anche delle patch di sicurezza quindi a livello di aggiornamenti nessun tipo di problema il prodotto verrà aggiornato per 4 anni con le major update e 5 anni di patch di sicurezza all'interno della confezione nella sua classica colorazione rossa e con il simbolo serigrafato nero per quanto riguarda la versione verde dovrebbe essere diverso per quanto riguarda invece la versione nera troviamo il caricatore da 100W con presa europea e con funzionalità SuperVoc di Oppo e poi il classico cavo dati USB tipo AUSB Type-C rosso con inserti terminali bianchi e non neri un cavo comunque robusto e ben fatto troviamo ovviamente la pellicola e l'incarto che protegge il telefono e poi troviamo una confezione in cartone all'interno della quale troviamo diversi elementi tra cui un cartoncino che in pratica ci ringrazia per aver acquistato il prodotto una sorta di guida e un manuale di istruzioni una serie di adesivi e poi una social card che ci permette in pratica di avere degli sconti dedicati quando ci registriamo al servizio e poi ovviamente il classico pin per rimuovere il carrellino delle sim dove in particolare abbiamo due nano sim oppure anche la possibilità di utilizzare la eSIM virtuale come abbiamo visto non è presente nessuna cover di protezione all'interno del prodotto per quanto riguarda la premessa ovviamente un prodotto global funziona a Roma è ovviamente italiana funziona Android Auto, la cronologia delle posizioni è presente la banda venti eccetera e quindi il telefono è utilizzabile al 100% l'hardware è in particolare molto potente perché parliamo di uno Snapdragon 8 generazione 3 una GPU che è la Dreno 750 la memoria RAM 12 o 16 GB LEP DDR5X e la memoria interna è da 256 o nel mio caso 512 GB UFS 4.0 a livello dimensionale il prodotto è abbastanza grande perché parliamo di un'altezza di 164.3 per una larghezza di 75.8 per uno spessore di 9.15 mm un peso complessivo di 220 grammi a livello di materiali abbiamo un vetro posteriore smerigliato lucido e ruvido opaco che non trattiene le impronte anche se risulta molto scivoloso in questa colorazione verde qui in verde praticamente ha una trama simile marmorea che è stata utilizzata ispirandosi al fiume Dar delle Alpi Meridionali della Nuova Zelanta è protetto il posteriore da vetro Gorilla Glass 5 mentre il telaio è in alluminio lucido in particolare e quindi il grip a livello di telaio non è dei migliori appunto perché è lucido mentre nella parte posteriore il grip è migliore anche se il prodotto risulta abbastanza scivoloso essendo piuttosto grande in mano si tiene non con estrema facilità conviene utilizzare una cover protettiva affinché il prodotto possa non scivolarci ovviamente non è un prodotto con schermo flat ma è un dispositivo che presenta una curvatura lieve lungo i bordi non è in maniera molto elevata curvatura che segue anche la parte posteriore come vediamo va a curvarsi per poi riunirsi tutto nel frame laterale realizzato in alluminio il che fa sì che lo spessore laterale sia leggermente più piccolo di quello che dovrebbe essere o meno questo sembra inoltre come vediamo le fotocamere poggiano su di un bumper laterale di forma circolare che non è molto vistoso a livello di spessore rispetto a tanti altri telefoni che hanno utilizzato la stessa tecnologia lo stesso bumper in pratica diciamo si va ad unire ad una piastra rettangolare lucida nella stessa colorazione verde ma chiara e lucida dove è disposto anche il flash led ed è leggermente poi rialzata rispetto al bordo del telefono inoltre va appoggiarsi qui non in maniera curva ma come vediamo a una struttura di base piatta interessante è l'utilizzo del vetro che va a proteggere i sensori delle fotocamere che utilizza la stessa trama della parte posteriore in questa colorazione verde marmoria dove è possibile notare la scritta H per la collaborazione con Asseblood per quanto riguarda l'ingegnerizzazione del software telefonico e dove sono riportate le focali per ogni fotocamera principale mentre qui sono situati dei sensori di temperatura e di utilizzo del laser autofocus per gli scatti per quanto riguarda invece la parte inferiore troviamo il carrellino per le due nano sim con un involucro per la protezione contro polvere e acqua più il microfono principale una porta usb 3.2 con uscita video ma senza modalità desktop una griglia dell'altoparlante, l'altoparlante è stereo sul lato destro abbiamo il bilanciere del volume, il tasto di accensioni non hanno come gli oppo il tasto di accensione una colorazione differente e ha una struttura liscia e non ruvida mentre sul lato opposto abbiamo il selettore per l'impostazione della modalità vibrazione silenziosa o di suoneria nella parte in alto troviamo l'uscita della cassa audio e dell'altoparlante più il selettore IRDA per comandare tv o altri sistemi on the box e il secondo microfono per la soppressione del rumore un terzo microfono dovrebbe essere situato nella parte posteriore sul lato sinistra invece abbiamo già detto nella parte posteriore abbiamo il simbolo del one plus che in pratica non è stampato ma è serigrafato infatti al tocco si sente e poi abbiamo il bumper delle fotocamere nella parte frontale troviamo invece una fotocamera anteriore che in particolare non è molto grande delle dimensioni presenta una pellicola preapplicata come vediamo le cornici sono abbastanza strette quasi simmetriche quelle a superiore con quelle laterali che sono molto ridotte mentre il mente è leggermente più grande della parte superiore il dispositivo si tiene abbastanza bene in mano ovviamente essendo un dispositivo abbastanza largo come vi ho detto è un po' difficile da utilizzare buono il fatto che i bordi non sono taglienti quindi poggiato sul palmo della mano in particolare non crea nessun tipo di problema particolare per quanto riguarda la protezione IP è di tipo 65 e non 68 e questo è forse l'unico problema di questo dispositivo per quanto riguarda le funzionalità presenti troviamo il Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo e Baidu DRM with Wine L1 il lettore di impronta digitale di tipo ottico ed è situato nella parte in alto e sblocca il dispositivo 10 volte su 10 lo sblocco del dispositivo può avvenire anche tramite il riconoscimento del viso che funziona 10 volte su 10 anche in questo caso soprattutto con una buona luminosità un po' meno con luminosità bassa la qualità telefonica è ottima in quanto abbiamo un'ottima ricezione davvero super anche in posti dove altri telefoni tendenano non mi ha dato nessun tipo di problema abbiamo una buona qualità telefonica e una buona soppressione del rumore unico piccolo problemino che ho notato con questo telefono quando in pratica andiamo a rispondere al nostro interlocutore bisogna fare attenzione dove viene posizionata diciamo il telefono in corrispondenza della cassa dell'auricolare perché sembra quasi diciamo non simmetrica rispetto alla fotocamera quindi se lo poniamo più a sinistra o più a destra praticamente non sentiremo bene il nostro interlocutore una volta che invece riusciamo a posizionarci in una maniera corretta invece non avremo nessun tipo di problema esiste una buona soppressione del rumore e una buona qualità sopportato il VWiFi 4G, 4G+, 5G con una buona aggregazione delle bande sono presenti tutte e quante le bande non registra nativamente le chiamate ma supporta la eSIM non supporta la registrazione delle chiamate non è presente in quanto è presente il dialer telefonico di Google dove manda però questa funzionalità il VWiFi è 7 gli aggiornamenti riceverà 4 anni di image rapidite 5 anni di patch di sicurezza per quanto riguarda i test di benchmark sono piuttosto elevati infatti abbiamo raggiunto punteggi elevati con AnTuTu sia per quanto riguarda GIMBEC 6 in single core e in multi core anche per quanto riguarda la GPU 3DMark, PassMark per quanto riguarda il freno del throtting test subisce il freno del throtting test dopo un test di 15 minuti vediamo che le bande cominciano a diventare gialle non come molti altri telefoni non ha diciamo la stessa range che ho visto nell'IQ12 che con lo stesso processore gestiva meglio il freno del throtting test infatti dopo 15 minuti comunque riduce le proprie performance del 75% buoni la lettura la velocità di lettura e scrittura con i vari test ecco è effettuato buono anche il punteggio raggiunto con PCMark ottimo il test del GPS sia dentro che fuori anche qui le velocità raggiunti in lettura e scrittura sono molto elevate qui nel freno del throtting test mantiene le temperature abbastanza elevate ma come vediamo dopo 10 minuti di test in pratica non ha subito affatto il fenomeno del throtting test che è rimasto pari allo 0% e quindi la temperatura si è incrementata di 39 gradi ma questo non ha comportato nessuna generazione del throtting quindi è un'ottima gestione della temperatura interna ottima anche il livello di batteria dove in pratica riesce a gestire tranquillamente anche due giornate piene con circa 9 ore di utilizzo di schermo attivo con PCMark in pratica utilizzando la commutazione intelligente per lo schermo il refresh rating commutazione intelligente wifi acceso luminosità al 50% ha raggiunto circa 19 ore quindi ottimo per quanto riguarda la gestione delle reti in 4G è ottimo sia in download che in upload dove ha avuto in questo caso con Coppomobile qualche problema minor problema invece con l'utilizzo della Vodafone dove i valori raggiunti sono stati molto elevati buona anche la gestione del wifi dove non ho trovato nessun tipo di problema e anche allontanandoci dal router comunque raggiunge sempre valori molto elevati e qui come vedevamo per quanto riguarda la batteria in due giorni ha effettuato circa 7 ore di schermo acceso ancora di più qui in quasi due giorni addirittura 9 ore e 33 ore di schermo acceso quindi il OnePlus 12 è uno dei top di gamma con la migliore autonomia che ho potuto testare per quanto riguarda invece il telaio laterale abbiamo detto che è in alluminio ed è ovviamente scivoloso mentre per quanto riguarda le fotocamere abbiamo una 50 megapixel Sony litia 800 che è un nuovo sensore da 1 su 1.4 che in pratica diciamo ha dei livelli separati per i fotodioti e i transistor in maniera tale da avere meno rumore e una maggiore qualità telefonica è una f1.6 quindi molto ampia cattura molto luce corrispondendo ad una 24 mm con sensore ECMOS DSi Plus pixel da 1.12 micron e ha stabilizzazione ottica dell'immagine PDAF e autofocus poi abbiamo una 48 megapixel ultra wide Sony IMX 581 che è la stessa del OnePlus 11 1 su 2 le dimensioni pixel a 0.8 micron f2.2 114 gradi quindi non molto ampia corrispondente ad una 14 mm ma dotata di autofocus per le macro e infine una 64 megapixel periscopica Omnivision 64 VB che è la stessa vista nell'IQ12 con sensore da 1 su 2 f2.6 70 mm corrispondente con zoom ottico 3x ibrido 6x digitale fino a 120x dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine e pixel da 0.7 micron la fotocamera anteriore è una Sony IMX 615 quindi abbastanza vecchiotta da 32 megapixel che corrisponde ad una f2.4 da 21 mm con angolo da 90 gradi 5 lenti stabilizzazione digitale non ottica non è dotata di autofocus gira video però in 4k 30 fps e non 60 fps però rispetto a tanti altri prodotti cinesi è migliore perché non si ferma a 1080p come l'IQ12 per quanto riguarda le foto i video vengono registrate con la fotocamera posteriore anche in 8k 24 fps 4k 60 fps 1080p 30 fps con HDR Dolby Vision le foto risultano molto buone con una buona qualità dei dettagli e anche per quanto riguarda i colori mi sono piaciuti molto soprattutto le foto scattate di giorno con condizioni di luce invece più basse comunque l'HDR funziona abbastanza bene riesce comunque a gestire a ottenere diciamo con un buon bilaggiamento del bianco e con un buon contrasto non arriviamo ai livelli del vivo o dello Xiaomi 14 Ultra però per il prezzo che vale effettivamente ha generato degli ottimi scatti come qualità di foto diurne e notturne lo ritengo migliore comunque a quelle scattate con l'IQ12 tranne per quanto riguarda le foto invece con zoom dove lì invece la battaglia con l'IQ è abbastanza meno netta come vediamo anche le foto con zoom sono abbastanza buone raccoglie una buona quantità di immagini e di dettagli anche per quanto riguarda l'ultra grandangolare gli scatti sono abbastanza decenti così come la qualità di rappresentazione del cielo è dei pini che è abbastanza buona anche in questo caso aumentando lo zoom ovviamente risultano i bordi abbastanza rumorosi ma diciamo migliori rispetto a tanti altri telefoni mi piace come riesce a gestire l'HDR con la funzionalità Pro XDR che va diciamo ad aumentare ancora di più il livello dell'HDR come vediamo è senza HDR attivo vediamo come sarebbe stato effettuato lo scatto e con l'HDR diciamo superattivo questa funzione Pro XDR che aumenta ancora di più la gamma dinamica però in certi casi conviene disattivarlo perché come vediamo in questo caso si riesce a notare un miglior contrasto rispetto diciamo all'attivazione dell'HDR è buona anche la qualità dei dettagli catturati e come possiamo vedere in questa foto 1x ha effettuato effettivamente uno scatto sublime con lo zoom 2x anche qui in pratica diciamo con l'attivazione o meno dell'HDR qualcosa cambia a livello di luci però la qualità è davvero eccellente zoom 3.2 ottico come vediamo si ottengono delle foto particolarmente belle ed eccellenti abbiamo con lo zoom 3x veramente una qualità ottima delle foto foto che poi possono essere impostate anche con zoom fino a 10x e anche in questo caso come vediamo non ha nessuna perdita di dettaglio e anche in questo caso abbiamo ottenuto uno scatto veramente efficiente senza HDR impostato in maniera automatica questa foto comunque sarebbe risultata migliore perché va diciamo ad aumentare con l'HDR attivo troppo il livello della luminosità buona anche il livello degli scatti selfie effettuati con una buona qualità dei dettagli forse il viso un po' pallido però il livello dei dettagli ci sta soprattutto si riesce a notare il livello dei dettagli di quello che sta dietro della tenda che sta dietro la finestra cosa che pochi telefoni con la fotocamera anteriore hanno effettuato anche in questo caso è possibile variare la gestione del Pro XDR buone anche le macro se non sono le migliori che ho notato però è abbastanza buona andando ad effettuare uno zoom si vede che ha raccolto una buona quantità di dettagli anche in questo caso è possibile gestire l'HDR vedere come sarebbero stati i risultati mi piace anche il fatto di aver messo bene a fuoco il fiore rispetto alla parte laterale anche in questo caso con l'effetto del Pro XDR attivato vediamo che va a illuminare troppo l'immagine rendendo in certi casi un'immagine surreale a livello di colori mentre per quanto riguarda la qualità dei dettagli è invece veramente ottima anche in questo caso vediamo come l'effetto dell'HDR attivo vada a gestire in maniera a non ottimare il colore perché va a illuminare troppo il cielo rendendo questa colorazione che non era così effettivamente presente mentre disattivando in questo caso l'HDR come vediamo lo scatto risulta più simile a quello che effettivamente vedevamo con l'occhio umano per quanto riguarda invece le foto zoom sono abbastanza buone zoom 2x, zoom 10x con lo zoom 3x vediamo gli effetti e i dettagli sono davvero elevati con zoom 10x fino a 20x invece riesce a catturare una buona qualità dei dettagli con lo zoom 60x già si è una perdita dei dettagli e poi lo zoom 100x e 120x che può arrivare invece sono particolarmente artefatte le immagini buona la qualità delle foto ritratto anche le foto all'interno risultano abbastanza buone sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore soprattutto per quanto riguarda il livello dei dettagli del pavimento che è riuscita a catturare anche le foto con zoom 2x sono abbastanza buone foto notturno non mi sono piaciute tanto soprattutto per quanto riguarda il fatto che in corrispondenza di fondi luminosi e forte si vedono questi riflessi sia in modalità non notturna che con modalità notturna attiva qualcosa di meglio ha fatto invece con la fotocamera ultra grandangolare anche se non cattura molta luce ma attivando poi la modalità notturna ha effettuato qualcosa di meglio zoom 2x come vediamo cioè zoom 1x come vediamo in corrispondenza anche in questo caso di una forte fonda di luce artificiale praticamente risulta questo bagliore molto forte che non riesce ad eliminare tranne se andiamo ad attivare la modalità notturna che migliora nettamente l'immagine con la fotocamera ultra grandangolare in modalità notturna aumenta anche la luminosità anche con zoom 3x come vediamo risulta abbastanza bruciata in corrispondenza della fonte luminosa con lo zoom con modalità notturna attiva si perde il dettaglio ma in particolare si perde anche l'effetto artefatto e bruciato dovuta alla fonte luminosa buona anche le foto con zoom foto invece interne abbastanza buone ovviamente senza modalità notturna e con modalità notturna riesce a catturare più luce foto flash buona con la fotocamera ultra grandangolare la situazione non è simile a quella della fotocamera principale foto flash come vediamo molto dettagliata poi foto selfie anche all'interno abbastanza buono a livello di dettagli anche per quanto riguarda la foto ritratto foto notturna senza luce a catturata o poca luce utilizzando la modalità notturna praticamente non è variato niente perché già con la fotocamera selfie in modalità notturna senza la modalità notturna praticamente va a aumentare l'esposizione ed è lo stesso livello di esposizione che si ottiene anche con la modalità notturna attiva utilizzando invece il flash anteriore si riesce a catturare una maggiore quantità di luce e ovviamente la foto viene migliore video registrato in 4k a 60 fps con stabilizzazione digitale ottimo l'HDR e la gamma cromatica ottimo anche l'audio catturato però ci sono dei piccoli microscatti e dei piccoli bagliori la stabilità non è la più perfetta io ovviamente non utilizzo un stabilizzatore utilizzo il telefono tenendoli in mano in maniera tale da vedere effettivamente con gli sbalzi correndo che cosa succede in questo caso utilizzando la super stabilizzazione digitale a 1080p 60 fps è migliorato di molto il telefono e in particolare è risultato anche molto più stabile anche se si è ridotto ovviamente la qualità del dettaglio dato che siamo scesi a 1080p per quanto riguarda il video girato in 4k a 30 fps la stabilizzazione non è delle migliori buono la rappresentazione del cielo e l'HDR anche se in alcune scene si vedeva un po' bruciato il tetto della casa soprattutto il bagliore che ho sul viso non è quello reale perché risulta molto pallido rispetto a tanti altri telefoni quindi a livello di foto e di video sicuramente il telefono è un buon dispositivo tenendo conto del rapporto qualità prezzo non è dei migliori però comunque mi è piaciuto per quanto riguarda invece il display abbiamo un 6.82 pollici AMOLED prodotto dall'Abbone con una risoluzione davvero alta sicuramente il miglior punto di questo telefono è il display perché arriva ad una risoluzione di 1440x3168 pixel che è una risoluzione praticamente alla pari di quella del Samsung S24 Ultra ma attraverso le impostazioni possiamo impostare una risoluzione più bassa quindi pari per poter risparmiare la batteria o una risoluzione intelligente 510 ppi 30 bit per quanto riguarda 10 bit per quanto riguarda il colore 91.06% l'area occupata dal display display protetto da vetro Gorilla Glass Victus 2 un LTPO di terza generazione da 1 a 120 Hz il refresh rate adattivo 600 nits di luminosità tipica 1600 automatica è presente fino a 4500 nits nits di picco con HDR attivo il PDPVM dimming arriva a 2160 Hz quindi nessun problema con l'affaticamento degli occhi spazio colore DCP3 100% HDR 10 Plus 10 Adobe Vision presenti presente anche l'HDR Vivid e la dicitura Pro XDR per una gamma dinamica molto più ampia presente un processore d'immagine proprietario Pixelworks X7 per migliorare la resa visiva dei contenuti l'acqua touch che permette di utilizzare il touch anche con display bagnato l'ho provato e funziona davvero bene quando piove lì dove altri telefoni intendavano nella scrittura della tastiera luminosità minima pari a 1.9 quindi abbastanza bassa è un display ottimo che mi è piaciuto davvero tanto molto molto luminoso veramente uno dei display più belli di questi dispositivi che sto testando di fascia alta veramente molto definito luminosità al 100% davvero altissima buono anche il bianco che è veramente bianco è ottimo il nero anche gli angoli di visione sono molto elevati infatti diciamo praticamente sotto diversi angolature come vediamo l'immagine sembra quasi fuoriuscire dallo schermo quindi è un display che mi è piaciuto tanto se poi andiamo a rimuovere la pellicola preapplicata in plastica la resa dei colori aumenta nettamente e risulta ancora migliore per quanto riguarda la batteria da 5.400 mAh arriva due giorni di utilizzo 9 ore di schermo acceso 24 minuti fino a 29 minuti per la ricarica al 100% è possibile impostare tramite un menu la ricarica rapida o meno e presenta anche la ricarica wireless a 50W inversa a 10W utilizzando la ricarica wireless impieghiamo 55 minuti per la ricarica completa solitamente con una batteria del genere abbiamo visto che ho effettuato 9 ore di utilizzo con un utilizzo medio utilizzando giochi e benchmark e scattando molte foto e girando video ovviamente la batteria si riduce ma ci porta tranquillamente a sera senza nessun problema questo è veramente un battery phone tramite le impostazioni e i parametri di utilizzo di GSM Arena questo telefono è capace di arrivare a 14 ore di riproduzione web continua 18 ore di video 7 ore di gioco 33 ore di chiamate in 3G per quanto riguarda l'audio è molto potente grazie alle due casse gli speaker audio stereo presenti aumentiamo il volume al massimo aumentiamo il volume molto alto soprattutto ha una buona risoluzione a livello di frequenze basse e medie non è il migliore per quanto riguarda il volume nel senso che ci sono dei telefoni che hanno un volume più elevato ma qui comunque ha una buona sonorità a livello di frequenze medio basse in più tramite le impostazioni del menu è possibile attivare Dolby Vision l'olo audio e anche l'audio spaziale e andando a utilizzare delle cuffie queste impostazioni sonore sono diciamo nettamente migliorabili rispetto a quello che fornisce direttamente la cassa dell'ortoparlante stereo per quanto riguarda invece le temperature queste vengono mantenute abbastanza basse grazie ad una camera di vapore di 2140 mm quadrati e a un sistema di ventilazione di 3857 mm quadrati che permettono proprio di mantenere delle temperature non vistose anche con l'utilizzo dei giochi ovviamente va a riscaldare ma non riscalda tanto come altri dispositivi con lo stesso processore del telefono mi è piaciuto non solo il display la qualità telefonica ma mi è piaciuto anche il sistema di vibrazione che è possibile diciamo impostare attraverso un menu la potenza dello stesso è un feedback aptico veramente netto corposo che poi gestisce presente di gestione su tutto il sistema che funziona davvero bene e poi quello che mi è piaciuto è la fluidità non si hanno più i prodotti Oneplus di una volta che permettevano un sistema di personalizzazione ampissimo oramai da qualche da qualche anno questo sistema si è integrato a quello che è la color OS andando in un certo modo a migliorare quei bug che erano presenti all'inizio dell'Oxygen e andando poi a migliorare la percezione del sistema è arrivato ad una maturità maggiore grazie poi a quello che è migliorato nel corso del tempo la stessa color OS però ha perso quella pil che aveva all'inizio questo però non lo ha reso come un deficit perché in pratica il sistema gira in maniera fluida in una maniera pazzesca e rispetto ai dispositivi Oppo non ho notato una grande differenza proprio in termini di fluidità gira bene batteria estrema ma la fluidità è quel parametro che ho notato in questo dispositivo che non noto in altri dispositivi che utilizzano comunque lo stesso processore lo stesso IQ 12 che ha a livello di potenza una qualità dei punteggi maggiori non ha la stessa fluidità nelle animazioni che invece ha il One Plus quindi è rimasto in questo senso un dispositivo come un dispositivo di un tempo davvero fluido e davvero performante quello che è variato rispetto al One Plus di una volta il prezzo il prezzo è aumentato tantissimo ma dopo qualche mese finalmente si è abbassato attualmente come abbiamo visto i prezzi è possibile oscillano tra gli 800 e 900 euro per quanto riguarda la versione top da fino a 512 GB e si può acquistare anche a meno utilizzando invece i mercati cinesi però in quel caso in particolare la garanzia non è più di due anni ma è di un anno acquistandolo però sui mercati cinese è comunque possibile acquistarlo con la banda 20 presente anche perché è possibile acquistarlo non con la color OS che è prevista per il mercato cinese ma con l'Oxygen OS e quindi tutte le applicazioni e la personalizzazione è presente anche per il nostro mercato a livello di personalizzazione del software è abbastanza ricco abbiamo come abbiamo abbiamo diciamo un menu che è uguale a quello di Oppo l'unica cosa che cambia è ovviamente il numero 1 per quanto riguarda l'orario che rimane che rimane in particolar modo rosso poi ci sono i toggle rapidi più grandi nella parte in alto gli altri toggle hanno scorrimento orizzontale sistema delle notifiche abbastanza ben fatto è possibile cambiare la disposizione dei toggle tramite la modifica dei riquadri andando nelle impostazioni abbiamo tante possibilità di gestione nella schermata iniziale meno nella schermata di blocco dove ci consente solamente di sollevare per attivare o di toccare due volte per attivare lo schermo di mostrare il lettore multimediale ma non c'è un'impostazione specifica che ci permette di variare per esempio il colore dell'orologio eccetera modifiche che invece possono essere fatte a livello di sfondi stile per quanto riguarda la gestione degli sfondi è possibile crearne anche in maniera artificiale ci sono tanti sfondi statici e tanti sfondi animati ma non abbiamo la possibilità di scaricare altri sfondi direttamente da uno store dei temi come è presente nel campo degli Oppo sono presenti un unico carattere è presente non è presente il campo dei temi per avere i temi bisogna scaricare l'app lo store dei temi direttamente dai telefoni di Oppo cosa che manca invece e non capisco il perché nell'OxygenOS abbiamo la possibilità però di variare la gestione delle icone tramite diverse impostazioni tra cui anche quelle personalizzate che ci consentono di modificare sia l'angolo che la forma che il mostrare o meno il nome delle app il nome delle app e applicare i colori di sistema e possiamo poi soprattutto scaricare dei pacchetti icone direttamente dal play store abbiamo la possibilità poi di gestire il colore dei toggle rapide dei menu attraverso colori di base e attraverso colori di sfondo abbiamo la possibilità di gestire anche i toggle rapidi per quanto riguarda la forma degli stessi abbiamo l'animazione per quanto riguarda lo sblocco tramite imbrana digitale e l'illuminazione dei bordi in sole tre colorazioni quando in pratica arrivano le notifiche a schermo spento poi abbiamo nei suoni e vibrazioni la possibilità di gestire il dolby atmos con diverse configurazioni che possono essere gestite in pratica attraverso un profilo di scenario intelligente abbiamo o meno l'audio spaziale che funziona bene sia con l'altoparlante che in pratica con il soprattutto con le cuffie quando utilizziamo le cuffie poi c'è anche l'olo audio che è un'impostazione specifica quando andiamo a connettere le cuffie poi abbiamo l'impostazione del feedback tattile che ci consente in pratica di gestire lo stesso e l'intensità dello stesso e anche il feedback ed è veramente molto molto corposo e poi andando in notifiche abbiamo tutta la gestione delle notifiche in maniera ottimale con tutte le icone che possiamo avere tutti i toggle dell'icone l'always on display che funziona in particolare benissimo perché ci arrivano tutte le notifiche ma non abbiamo tante personalizzazioni per quanto riguarda le immagini o le impostazioni proprio specifiche dell'always on display dove abbiamo diverse possibilità di aggiunte sia personalizzate che di sistema rispetto stesso ai dispositivi di Oppo dove ne ho trovate molte di più di modifiche poi andando in caratteristiche speciali abbiamo la possibilità di avere la visualizzazione a schermo diviso nelle applicazioni recenti abbiamo la possibilità di per quelle applicazioni che lo consentono di andare direttamente nello schermo diviso o di utilizzare la gesture specifica per avere lo schermo diviso con tre dita poi abbiamo le finestre flessibili poi abbiamo l'avvio rapido tenendo premuto sull'impronta per avere e aprire applicazioni specifiche una barra laterale intelligente che è fatta molto bene perché la barra laterale intelligente ci consente sia di aprire le applicazioni in schermata divisa oppure di utilizzare la stessa applicazione in modo particolare in multifinestra di poter spostare di ridurre di aumentare le dimensioni della stessa o comunque di spostarla o di chiuderla non possiamo ridurla invece ad icona ma la cosa la cosa che mi è piaciuto tanto è che è stata implementata e che era presente anche nei dispositivi Oppo è questo doc dei file cioè noi praticamente se ci troviamo per esempio nel campo delle foto ad esempio apro una foto che è di questo tipo tengo premuto su questa foto tramite l'intelligenza artificiale ho la possibilità di selezionare l'immagine sia che sia un'immagine di una persona che è un oggetto di copiarla salvarla o di condividerla oppure la posso spostare nel cosiddetto doc dei file quando poi io vado in pratica nel doc dei file vedo in pratica tutte le immagini che sono state salvate queste stesse immagini le posso salvare tramite le note le posso aggiungere tramite le posso aggiungere ad un'email in maniera molto più rapida di quella che andremo a fare andandola a ricercare direttamente sul sul file manager o sull'app dell'album e quindi questa funzione mi è piaciuta davvero tanto e sono anche delle immagini che possono essere utilizzate eventualmente su whatsapp o su telegram e su altre diciamo applicazioni di messaggeria istantanea poi è presente anche la modalità bambini una modalità semplice e l'onze spesi che ci consente di concentrarci quando utilizziamo il telefono e di ridurre l'utilizzo di alcune applicazioni a livello di applicazioni non ne troviamo tantissime una volta che andiamo a spacchettare il telefono oltre a quelle di google troviamo la modalità giochi che ci permette di avere varie impostazioni di modifica nei giochi e negli strumenti abbiamo lo z space l'applicazione per gestire il telecomando per comandare tv o altri sistemi on the box l'applicazione per le note quella per rilassarci il clone a telefono lo store di oneplus e la community i file quindi file manager il meteo e la calcolatrice e poi troviamo solamente qualche applicazione specifica come il meteo e autodoc e poi tiktok booking e spotify tutte le altre applicazioni sono quelle che ho installato io abbiamo la possibilità del tasto di ricerca globale qui in basso abbiamo la possibilità di entrare direttamente in shelf tramite uno swipe dalla home in shelf abbiamo la possibilità di avere vari widget ci consente di installare sia i widget proprio di shelf sia poi di analizzare in pratica la ricerca globale per trovare alcune applicazioni ovviamente i widget presenti di shelf sono quelli che in pratica sono stati creati ovviamente da tramite OxygenOS quindi dal produttore non sono tantissimi come vediamo e quindi non possiamo installare tanti widget ma sono comunque interessanti questa diciamo shelf non è possibile averla nella schermata sulla sinistra come vediamo a sinistra possiamo avere solamente google discover o diciamo disattivare google discover nelle impostazioni della batteria abbiamo la possibilità di vedere l'utilizzo delle singole applicazioni e di ottimizzare l'uso della batteria di avere una modalità di risparmio energetico e risparmio energetico super e alcune specifiche legate alla modalità di risparmio energetico la salute della batteria con la ricarica intelligente con arresta la ricarica all'ottanta per cento abbiamo anche la ricarica wireless e nelle impostazioni di ricarica abbiamo anche un tutorial di ricarica con varie impostazioni per quanto riguarda la ricarica wireless in altre impostazioni abbiamo anche la possibilità di ricaricare il telefono in maniera rapida ritornando alle impostazioni abbiamo anche nelle altre impostazioni nei gesti e movimenti quindi la possibilità di avere dei gesti a schermo spendo come tracciare delle lettere per aprire direttamente delle applicazioni o la O per la fotocamera i comandi musicali di effettuare con tre dite uno screenshot o uno screenshot parziale di sollevare per attivare il telefono oppure di rispondere al telefono portando il telefono all'orecchio e poi tante altre impostazioni è un telefono che mi è piaciuto tantissimo perché non ha un costo elevato soprattutto se lo si acquista oggi ha un'ottima fluidità un'ottima durata della batteria buona anche la qualità delle foto soprattutto quelle diurne un po' meno quelle notturne dovrebbe migliorare comunque la stabilizzazione nei video sia diurni che notturni ma è un telefono da prendere in considerazione mi è piaciuto e sinceramente anche l'interfaccia pur se è uguale alla ColorOS ricca di impostazioni quindi un telefono che sicuramente raccomando a tutti a tutti che ci sono quindi Grazie.